La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto a tutti da Francesco Amodeo. Voglio approfittare di questa pillola radio per fare una comunicazione in anteprima. Ho deciso di scendere in campo per le elezioni del 25 settembre e di metterci la faccia, accettando la candidatura come capolista in Campania e in Veneto con il partito Italexi. La mia è una scelta coerente con il mio trascorso. In qualità di autore dell'inchiesta La Matrix europea, non potevo che andare con chi si è schierato dichiaratamente contro questa Unione europea, così tirannica e antidemocratica. Contro la moneta unica, utilizzata come strumento finanziario di distruzione delle economie nazionali. Contro la Nato, in qualità di agente provocatore di guerre per procura. E ovviamente contro le misure liberticide utilizzate, portate avanti dal governo in questi ultimi anni. Mi riferisco a misure come quelle relative all'obbligo del Green Pass o all'obbligo vaccinale. Dopo un'attenta analisi ed alcune ricerche personali, ho ritenuto che Italexit fosse l'unico partito che racchiudesse tutte queste battaglie, al netto ovviamente di estremismi e di simboli che si rifanno ad ideologie del passato divisive e dannose. Ho apprezzato la scelta di Gianluigi Paragone di aprire ad una squadra di personalità esterne al partito, ma scelte tra quelle che maggiormente si sono distinte in questi anni per le loro battaglie sul web e nelle piazze, dimostrando quindi coerenza e piena consapevolezza dello stato di cose. Quindi non ho avuto alcun dubbio. Non tornerò sulla mia candidatura in questa pillola radio, che deve restare una pillola di denuncia e di informazione. Quello che andrò infatti a fare all'interno del partito, e se gli elettori vorranno anche all'interno del Parlamento, sarà esattamente quello che ho fatto fino ad oggi, ossia denunciare ed informare. Non annuncerò l'apertura di scatolette di tonno così come fecero i Cinque Stelle, non farò promesse che non posso mantenere. Soprattutto non vi chiederò la fiducia su quello che andrò a fare, ma su quello che ho fatto fino ad oggi, perché è quello che io proverò a replicare in questa nuova avventura. Ora mettiamoci al lavoro, perché il sistema sta facendo di tutto per tenerci fuori dalle elezioni. E sapete bene che una democrazia senza opposizione è un regime, ed è esattamente quello che vorrebbero. Approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto a tutti.